Mi dispiace che queste nuove misure capitano in un momento particolare, anche in un momento una solenne festività, a noi tutti italiani cara, la Pasqua. È un momento di serenità, condivisione, anche di amore, di pace tra di noi, ma saremo purtroppo, lo dico particolarmente dispiaciuto, personalmente dispiaciuto, saremo purtroppo ad affrontare anche questi giorni di festività con questo regime restrittivo. Questo ci consentirà, questo sforzo ulteriore che vi chiedo, ci consentirà di iniziare a valutare, sempre con le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico dei nostri esperti, una prospettiva. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi, nel momento in cui il Consiglio degli esperti ce lo permetterà, inizieremo già a programmare un allentamento delle misure. Non vi posso dire però il 14 aprile. Non siamo nella condizione. Quel che è certo è che noi continuamente lavoriamo e ci confrontiamo con loro. Nel momento in cui avremo, valutando quello che succederà e quindi la curva epidemiologica nei prossimi giorni, queste due settimane, noi inizieremo ovviamente a valutare e ad abbracciare anche la prospettiva di entrare nella fase 2. La fase 2 è quella di convivenza col virus, di adottare delle misure, diciamo, che pian piano portano all'allentamento per poi entrare nella fase 3, che è quella dell'uscita dall'emergenza. La fase 3 è l'uscita dall'emergenza, il ripristino dell'assoluta normalità delle nostre attività lavorative, delle attività sociali. La fase 3 è la fase della ricostruzione, del rilancio della nostra vita sociale ed economica.